Gli itinerari della bellezza di Confcommercio Marche Nord producono una nuova guida che valorizza il fascino peculiare di un'eccellenza culturale della nostra provincia, quella di 12 teatri storici che vengono uniti in un nuovo itinerario che vede come partner BCC Metauro, Camera di Commercio delle Marche, Ente Bilaterale Provinciale Commercio Turismo e Gruppo Era. Sfogliando la guida si passa dalla magia dei teatri più celebri come il Rossini di Pesero, il Sanzio di Urbino e il Teatro della Fortuna di Fano fino al Perugini di Apecchio che è il più piccolo teatro delle Marche. Ma fra questi trovano degno rilievo anche i teatri comunali di Cagli, Monbaroccio, Gradara, il Teatro Apollo di Mondavio, l'Angel dal Foco di Pergola, il Tiberini di San Lorenzo in Campo, il Teatro del Triunfo di Cartoceto e il Teatro della Rocca di Sasso Corvaro tornato allo splendore originario proprio quest'anno dopo accurati lavori di ripristino e che per l'occasione ha accolto la presentazione dell'itinerario. Oggi siamo qui con la Confcommercio che ringrazio per l'egregio lavoro, per l'esemplare lavoro che sta svolgendo con i comuni della provincia di Pesero Urbino. Sono 21 comuni che fanno parte di questo itinerario, l'Itinerario della bellezza che poi si articola in tanti percorsi, tanti percorsi che prevedono percorsi dall'enogastronomia alla promozione del nostro territorio, del nostro patrimonio storico, culturale ed artistico. Questa volta si parla dei teatri storici, quindi 12 teatri che fanno parte dei 21 comuni dell'Itinerario della bellezza vengono raccolti in questa bellissima guida che raccontano i teatri storici delle Marche con le loro peculiarità e con le loro bellezze custodite all'interno. Quindi all'interno poi dei grandi capolavori, le grandi architetture del nostro territorio. Noi come Comune di Sasso Corvaro Auditore siamo dentro l'Itinerario della bellezza da quattro anni, facciamo parte di quattro percorsi, l'Itinerario della fede, del silenzio, l'Itinerario della bellezza, l'Itinerario dei teatri, l'Itinerario romantico perché qua a Sasso Corvaro abbiamo anche le reliquie di San Valentino e l'Itinerario delle Rocche perché facciamo parte del percorso delle Rocche di Francesco Di Giorgio Martini. Crediamo molto in questo progetto perché finalmente abbiamo trovato un partner, abbiamo trovato una realtà importante come quella della Confcommercio che unisce un intero territorio sotto un unico titolo e quindi questo è importante perché per fare promozione, per promuovere, per fare turismo ci vuole collaborazione, bisogna lavorare in squadra, non serve più, non sono più i tempi di fare i singoli eventi nei singoli comuni per fare doppioni, spendere energie e soldi unutilmente. Era un'idea che avevamo da mesi insomma di valorizzare anche questo cluster dell'offerta turistica, quella dei teatri storici. Le Marche sono definite la terra dei teatri, la regione dei teatri, bene ha fatto la regione Marche, la giunta Acquaroli a tentare di inserimento come patrimonio di umanità, sono riusciti a entrare nella lista delle candidature per avere questo riconoscimento. Noi sì, in qualche modo abbiamo anticipato con questa guida, una guida che rappresenta 12 teatri dei comuni che fanno parte dell'itinerario della bellezza e sono 12 gioielli veramente da visitare. Quello che però mi piace più di tutto ricordare è che sono 12 teatri attivi, operativi e rappresentano la vita delle nostre comunità, la vita di questi borghi, perché non solo si svolgono le classiche stagioni teatrali oppure musicali, ma sono anche luoghi di incontro, un po' che è l'agora greco, dove i cittadini si incontrano anche per riunioni di carattere sociale, iniziative di carattere politico, quindi teatri vivi, aperti, visitabili. Ci sono i teatri più famosi delle città più grandi, di Pesaro, di Fano, Urbino, ma tanti gioielli a cominciare dal teatro più piccolo delle Marche, che è il teatro di Apecchio. Quindi confidiamo che questa guida che sarà diffusa a livello nazionale raccoglierà il consenso da parte dei tanti turisti che continuano a visitare il nostro territorio.